Con Multifresh Next, lavorare è più semplice. Ogni dettaglio del nuovo abbattitore, infatti, è stato progettato per venire incontro alle esigenze di chi lo utilizza quotidianamente. Il segreto della performance è l'innovativo multicircuito MC3, che consente uniformità di abbattimento a pieno carico e massime prestazioni anche in caso di carico parziale. La griglia nella parte inferiore è stata disegnata per aumentare la portata d'aria e facilitare la pulizia. La porta è dotata di cerniere invisibili, configurabili per evitare urti tra macchine affiancate. La maniglia, dal design iconico, è ancora più solida e funzionale. La nuova sonda garantisce una perfetta lettura della temperatura e può essere agganciata rapidamente sulla superficie magnetica all'interno della porta. Grazie al porta-teglie multi-rack, la distanza può essere calibrata in base alle varie tipologie di teglie. La carica microbica è ridotta fino al 99% anche nei punti più inaccessibili, grazie a Sanigen che sprigiona ioni attivi. Nella parte superiore dell'abbattitore, un display personalizzabile consente di avviare e monitorare con facilità i diversi cicli di abbattimento anche da remoto. Una barra esterna a LED segnala l'avanzamento e il completamento dei cicli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.